Buonasera e benvenuti nell'edizione odierna del Tg di Teleregione Live. Partiamo subito con la prima notizia. Una persona morta e una ferita è il bilancio dello scontro frontale avvenuto ieri sera sulla statale 196 al chilometro 13 nel territorio di Villasor. A perdere la vita, Sebastiano Chessa, 82 anni, originario di Desulo, ma residente a Iglesias. L'uomo a bordo di una Fiat Strada, per causa in corso di accertamento, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri di Serramanna e Villasor giunti sul posto, avrebbe invaso la corsia andando a impattare con un pullman dell'Arst che sopraggiungeva in quel momento. Ferito il conducente che è stato trasportato al Policlinico di Monserrato per lievi traumi, illesi invece i sei passeggeri a bordo, tutti giovani tra gli 8 e i 27 anni che hanno proseguito la corsa in un altro pullman, sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L'avviabilità è rimasta interrotta per oltre tre ore, deviata su percorsi alternativi per consentire i rilievi. E passiamo alla politica dei regionali e il confronto tra le forze politiche. Alessandra Todde, candidata per il Campo Largo della Presidenza della Regione, i riuspiti a di martedì sulla 7, ha parlato della necessità di coesione per sconfiggere il centrodestra. Coesione che domani sarà al centro dell'incontro tra la stessa Todde e Renato Soru. Intanto il centrodestra cerca ancora le convergenze sul nome. Sentiamo Stefania Costa. Io credo che noi dobbiamo avere un progetto serio, competitivo, per contrapporci al centrodestra che in questo momento governa la Regione. Quindi l'unica possibilità che abbiamo è l'inclusione, la coesione e l'unità. È un progetto del noi, non è un progetto dell'io. Inclusione, coesione e unità. Alessandra Todde, candidata alle regionali in Sardegna del Campo Largo, nome condiviso tra il PD e il Movimento 5 Stelle, ospite da di martedì sulla 7, apre al dialogo con le forze ancora indecise e con Renato Soru, ieri governatore della Sardegna col PD, oggi in campo per le regionali con un nuovo progetto politico che nel nome e negli intenti propone una rivoluzione gentile. Todde e Soru si incontreranno giovedì 16 novembre alle 12. Serve un progetto del noi, dice la Todde, che però, in risposta alla domanda sulle primarie richieste da Soru, mantiene la posizione già espressa. Soru dice, beh, allora facciamo le primarie. Ma il tema delle primarie è stato dibattuto proprio all'interno di queste regole. Quello che hanno fatto i partiti è che sono confrontati internamente. Nel Movimento abbiamo fatto due assemblee, il PD ha fatto segreteria, direzione, assemblea qualificata, gli altri partiti si sono confrontati. E abbiamo deciso di non scegliere le primarie come metodo e di scegliere invece finalmente una classe dirigente che fa politica. Nel frattempo ci sono strappi e posizioni da ricucire, come forse quella con Calenda e certamente quella con Soru. E intanto nel centro-destra si attende lo smistamento delle carte da Roma per il verdetto finale sul nome del prossimo candidato. La partita si gioca tra la Sardegna, la Basilicata e le altre regioni governate dal centro-destra e prossime alle Orne. Il tavolo nazionale consegnerà un nome o forse più probabile un partito da proporre come candidato alla presidenza. La Lega con l'uscente Solinas, Fratelli d'Italia con Truzzo, ma potrebbe non essere l'unico nome, e forse Italia con Pietro Pitalis e forse Alessandra Zedda. E restiamo sempre in politica. Si allontana per il momento a sassere le ipotesi di una crisi in comune. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno infatti confermato il loro appoggio alla giunta Campus, nonostante le voci contrarie per l'ingresso dei grillini a livello regionale nel campo largo del centro-sinistra. Sentiamo Fabio Fresu. Niente crisi al comune di Sassari, almeno per ora. In una conferenza stampa convocata a Palazzo Ducale, infatti, il presidente del Consiglio Comunale Maurilio Murru, accompagnato dall'assessora Laura Useri e dai consiglieri Patrizia Zallu e Federico Sias, rappresentanti del Movimento 5 Stelle in consiglio e giunta, ha confermato l'appoggio al sindaco Nanni Campus, nonostante le voci circolate nei giorni scorsi. Secondo queste, i vertici nazionali e regionali del Movimento avrebbero chiesto la caduta della giunta Campus dopo l'ingresso dei pentastellati nel cosiddetto campo largo, in vista delle prossime elezioni regionali con il PD e diverse sigle del centro-sinistra, la cui candidata a governare la Sardegna sarà proprio la grillina Alessandra Todde. Noi manteniamo i patti, noi siamo persone corrette e di parola. Abbiamo firmato un accordo ratificato dal Movimento 5 Stelle nazionale, è sottoscritto anche dal nostro coordinatore regionale e nel rispetto di quei patti andiamo avanti. Le condizioni politiche sono rimaste esattamente le stesse. Per troppo tempo questa è una città che ha litigato, che è rimasta ferma e bloccata a causa di litigi. Noi siamo persone che invece i patti li rispettano, siamo persone responsabili che sono entrati in maggioranza in un momento di pandemia. Siamo con una coalizione civica, i partiti di centro-destra sono in opposizione, non vi è quindi una ragione di carattere politica che ci possa portare ad uscire da questa maggioranza oggi. La palla passa quindi al coordinatore regionale Ettore Liccheri, lui stesso sassarese. Ma che qualcosa a livello di comunicazione all'interno del Movimento non stia funzionando è evidente, come ha segnalato lo stesso Murru. Un certo disappunto è chiaro che vi è, perché avremmo avuto certamente piacere di poter condividere e di poter raccontare bene qual è la nostra posizione, perché noi viviamo continuamente e costantemente a contatto con i nostri cittadini per dare delle risposte. Quindi auspichiamo che ci possa essere quanto prima una discussione, una discussione che politicamente sono certo che è stata aperta nei tavoli, ma è giusto che noi facciamo parte. E ritorniamo sulla vicenda di Beniamino Zuncheddu. Ieri nell'Aula di Giustizia di Roma è crollata l'accusa per il pastore di Burcei, detenuto giustamente da 33 anni. Irene Testa, garante dei detenuti della Sardegna, dice chiaramente che ora è tempo della sua liberazione. Andrea Azzoli. Sembra giunto ad una svolta il caso di Beniamino Zuncheddu. Dopo 33 anni di detenzione, il super test che portò alla condanna del pastore di Burcei ieri ha denunciato che fu un poliziotto a indicargli il colpevole. Le dichiarazioni sono state fatte nell'ambito del processo di revisione in corso davanti ai giudici della Corte di Appello di Roma. Prima di effettuare il riconoscimento dei sospettati, l'agente di polizia che conduceva le indagini mi mostrò la foto di Beniamino Zuncheddu e mi disse che il colpevole della strage era lui. E' andata così. E' quanto affermato Luigi Pinna, 62 anni, unico superstite della strage di Sinai, avvenuta in Sardegna nel 1991, in cui furono uccisi tre pastori e per il quale sta scontando la pena dell'ergastolo Zuncheddu, che si è proclamato sempre innocente. Ho sbagliato a dare ascolto alla persona sbagliata, ha proseguito il testecchiave in aula, che poi ha aggiunto, penso che quel giorno a sparare furono più persone, non solo una. Con un solo fucile non puoi fare una cosa del genere. Il superstite, oltrandicendosi varie volte, ha aggiunto che il killer aveva il volto travisato da una calza. A rilanciare la richiesta di liberazione, Irene Testa, garante dei detenuti dalla Sardegna. Ieri è stato il giorno della verità. Verità che aspettava da 33 anni quella che Beniamino gridava dal carcere. Il testimone chiave, quello che lo accusava, finalmente ha raccontato la verità. Ha raccontato che non aveva riconosciuto la persona che ha sparato. Ha raccontato che gli è stata mostrata una fotografia, che lui si è fidato di chi gli ha detto di accusare Beniamino. E quindi noi adesso ci aspettiamo la liberazione immediata di Beniamino Zuncheddu. Io credo che abbia aspettato anche troppo. 33 anni sono un'infinità per una persona che non ha commesso reati. È un grosso incendio divampato. Questa mattina a Siniscola le fiamme alimentate dal forte vento si sono propagate rapidamente investendo due abitazioni. Per precauzione il sindaco Gianluigi Farris ha disposto l'evacuazione di 20 persone. L'intervento di vigili del fuoco giunti sul posto con più squadre assieme al lavoro della forestale, della protezione civile e dei baracelli ha evitato che il bilancio potesse essere più grave. Per spegnere il ruogo hanno operato anche due canader. Pomeriggio di fuoco anche a Cardedu, dove un incendio alimentato dalle forti raffiche di vento ha bruciato circa 30 ettari di vece d'azione. Intervenute sul posto due squadre dei vigili del fuoco, rispettivamente dalla Nusei e Tortoli, riuscendo dopo alcune ore a domare l'incendio. E sit in dei sidacati e lavoratori oggi davanti all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dopo il dietrofronte del manager Acciaro sull'accopamento di alcuni reparti a Olbia, restano i problemi relativi allo stato di salute della sanità in gallura alle prese con una gravissima carenza di organico. Sentiamo Stefania Costa. Sono rimaste solo le macerie, signori. Solo le macerie. Non è rimasto altro. Si svolge all'aperto l'assemblea dei lavoratori della ASL di Olbia. Avevano richiesto una sala all'interno dell'ospedale e in assenza di risposta dei vertici aziendali hanno deciso di riunirsi lo stesso proprio davanti al presidio ospedaliero nel quale trascorrono buona parte della vita, quella lavorativa, e il personale sanitario della gallura, medici, infermieri, os, uniti sotto le bandiere dei sindacati CGL e Cisleuil con nursing the Fials. Al megafono lamentano condizioni di lavoro non più accettabili dall'applicazione del contratto alla carenza di organico che riguarda tutti gli ospedali della gallura e tutti i pronto soccorso. La situazione del pronto soccorso di Olbia a Tempia la Maddalena è drammatica. Sono ridotti veramente a un organico di un pugno di persone. I turni scoperti aumentano e con essi anche le richieste al direttore generale della Sgallura, Marcello Acciaro. Sull'applicazione del contratto, sull'apertura del tavolo di contrattazione, sulle performance 2022, sulla prosecuzione delle fasce 2022 e sulla contrazione dell'organico. La riorganizzazione con l'accorpamento dei reparti di ortopedia e chirurgia voluta da Acciaro è durata una manciata di ore. Per Roberto Ligioi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, si tratta di una clamorosa marcia indietro. Ha dovuto fare un altro dietrofronte assolutamente ridicolo dopo che il blitz dell'assessore Doria... Siamo in presenza di una persona che è in assoluta confusione ed è inadeguata a svolgere il ruolo che gli è stato affidato. Per cui io chiedo ufficialmente che lui si dimetta. Dimensioni! 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 Al manager della ASL, sindacati e lavoratori chiedono una convocazione e informazioni puntuali sulle decisioni assunte e poi cancellate. Grazie a tutti!